grazie ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione oggi sono qua a parlare di un film che è uscito anzi no non è uscito sto guardando adesso che prende non è uscito ieri che me lo son visto che fossi ritardo cioè sono entrato su netflix mi sono ritrovato prende nella home questo film pensavo che era uscito adesso invece del 2021 quindi chiedo scusa non è una novità parliamo delle leggi della frontiera candidato a sei premi goia tra cui miglior sceneggiatura non originale miglior attore esordiente ceccio salgado racconta la storia di questo ragazzo che viene prende preso di mira dai bulli siamo nel 78 lui non ha amici gli viene rotto il cazzo non si può andare a vedere manco un film grazie di dio bella la citazione altrimenti ci arrabbiamo che si va a vedere il ragazzo film spagnolo come sappiamo i spagnoli francesi hanno sempre quella marcia in più riescono a creare una trama sempre dinamica con dei personaggi sfaccettati con una buona scrittura e non come gli americani che prende i personaggi sono vuoti a perdere e con una trama super lineare e non ha mai diciamo dei colpi di scena no del mordente del realismo ecco perché questo film si cerca di puntare sul realismo su qualcosa che può accadere e forse sarà anche accaduto ovvero chi prende questo ragazzo viene preso in giro e tutto fa la conoscenza all'interno di questa sala giochi che lui frequenta moltissimo ed è molto bravo con space in bed c'è molto bravo con vari giochi diciamo che ormai la sua vita è un nerd del 78 è come adesso che sei forte a fortnite o a call of duty a quei tempi c'era una sala giochi quindi conosce sta ragazza insieme a questo stotizio sembrerebbero che sono fratelli ma sembra che forse forse non lo so sembra che si provano qualcosa tra di loro quindi sto ragazzo vede che questo gruppo di di nuovi diciamo che sono un po più grandicelli di lui lo trattano in un modo diverso nel senso che non lo prendono per il culo non lo mortificano cioè non lo prendono in simpatia e quindi entra a far parte proprio di questo gruppo di ragazzi un po alla ricerca della bella vita dei soldi facili del divertimento tutti i giorni non mangiare fuori serati in disco della prostituzione droghe quindi entra in un mondo un po sbagliato nel senso che sì ok non ti non ti bullizzano eccetera però ti entrono a far parte di qualcosa di pericoloso e illegale cioè puoi rischiare il carcere o qualcos'altro quindi entrando in questo mondo inizio diciamo a fare piccole rapine ovvero inizia a fare la rapine proprio dove lui dà una mano in questa sala giochi fin quando si va a oltre a rapine ai farmaci rapine ai piccoli negozi fin quando scippi eccetera eccetera cerca insieme di puntare sempre più in alto perché i soldi non gli bastano mai perché sono questo gruppo di circa quando sono otto ragazzi no nove saranno otto nove ragazzi e quindi si inizia a creare questa cosa no di volere sempre di più però come sappiamo cosa ci ha insegnato la storia ovvero che sia se si vuole sempre di più si va a finire che non sia un pugno di mosche in mano quindi il ragazzo si innamorerà anche di questa ragazza questa ragazza un po troppo facilotta nel senso che si si concede un po ai uomini facilmente quindi vediamo lui che non riesce neanche ad andare con altre ragazze perché lui ha l'unico pensiero solo su quella donna io posso neppure perché quando c'è l'amore quando ti innamori di qualcuno non riesce a non pensare più a quella persona e cioè riesci solamente a pensare a quella persona mi sono pure sbagliato come parlare e quindi non riesci a fare niente con nessuno perché pensi solo a quella persona lì giustamente quindi il film come vi ho detto ha una bella impostazione cioè dura due ore e dieci ma corre che è una bellezza tra le conversazioni tra una rapina e l'altra tra diatribe gelosie è stato ben costruito il film proprio per non annoiare mai lo spettatore e sempre tenerlo sul pezzo e non annoiarlo mai perché spesso e volentieri questi film così lunghi sono di solito annacquati no per prolungare il brodo invece qua no ha tutto senso la sua durata di due ore e dieci cioè perché ormai fanno i film lunghi tanto per c'è tanto per far vedere che ci hanno fatto il film lungo e poi alla fine in contesto non c'era non era necessario farlo così lungo io vi consiglio di andarlo a recuperare lo trovate su netflix io l'ho visto in ritardo di tre anni chiedo perdono penso che era una novità non era una novità ma penso che nessuno ne abbia parlato qua su youtube italia perché non c'è nessuno in calzamaglia non ci sono gente con spade laser non va non va forte parlare di sta roba qua a me mi è piaciuto perché mi ha catapultato proprio in quegli anni degli anni 70 che è difficile ricreare anche i vestiti l'ambientazione cioè ci hanno messo molto impegno io l'ho apprezzato davvero tanto quindi se volete un qualcosa così diverso e amate anche voi come me la spagna perché film girato proprio nella girona del 1978 io vi consiglio vivamente di dargli una possibilità io detto questo vi ringrazio se vi va iscrivete al canale lasciate mi piace commentate fate tutto quello che cazzo volete fare per supportarmi e se volete donarmi qualcosa c'è il super grazie io vi risaluto ci vediamo al prossimo video ciao Grazie 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 Grazie